E passiamo al comprensorio Santa Marinella. La crisi economica sta attanagliando l'Italia intera e con esso ovviamente anche Santa Marinella. Nella cittadina tierrenica qualche lungimirante personaggio ha ben pensato di combattere la penuria di denaro affidandosi ai pacchi. Il problema però è che questi signori non hanno cercato di incontrare la dea bendata ad Affari Tuo, il celebre programma televisivo in onda su Rai 1, lanciato da Paolo Bonolis e ora condotto sapientemente da Max Giusti, ma hanno tampinato persone anziane per le vie di Santa Marinella. Nei giorni scorsi i malfattori hanno letteralmente assalito le loro prede mettendo loro in mano questi involucri di cartone, ovviamente vuoti e avanzando una richiesta economica pari a 40 euro. Fortunatamente alcune persone anziane hanno una tenuta mentale migliore di quella di tanti giovani sbandati ed è così che la signora Lella ha mandato in bianco il furbo di turno. Quello del Paco non è certo un espediente del malfattore moderno, le grandi città hanno visto materializzarsi tale truffa già diverse decine d'anni fa. Ora per la prima volta anche Santa Marinella da questo punto di vista può dirsi un paese all'avanguardia. Le innovazioni informatiche e la tecnologia mette a disposizione di tutti, sia unite alla grande esperienza e preparazione dei dipendenti comunali, possono rendere possibile un ammodernamento del funzionamento dell'amministrazione pubblica. Con queste parole il delegato ai lavori pubblici Nicola Moschetta ha commentato i suoi primi due mesi di lavoro della nuova giunta che nel rispetto di quanto indicato nel programma elettorale della coalizione che ha sostenuto la candidatura del sindaco Crescenzo Pagliotta sono stati caratterizzati da una riorganizzazione della macchina amministrativa. L'obiettivo per il quale stiamo lavorando a proseguito Moschetta è quello di spostare su base informatica il maggior numero di documenti possibile. In questo modo sia la ricerca che lo scambio di informazioni tra amministrazione e cittadini potrà diventare più veloce e snella. Inoltre la riduzione delle copie su carta contribuisce al rispetto dell'ambiente e alla riduzione dei costi di funzionamento della pubblica amministrazione. Altro settore di intervento è stato quello dell'assegnazione dei procedimenti relativi ai lavori in corso e dei nuovi responsabili. In questo caso la scelta dell'amministrazione in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di valorizzazione delle professionalità interne è stata quella di fare a meno di dirigenti esterni e di suddividere i lavori e le responsabilità fra i tre responsabili dei servizi presenti nella pianta organica. La riqualificazione dei siti archeologici e paesagistici, miglioramento dell'accessibilità in luoghi di grande interesse storico e culturale, servizi innovativi per una nuova e moderna fruizione di aree di parcheggio, pregio culturale della regione Lazio. Tra i progetti presentati dagli enti locali, l'amministrazione comunale di Montalto guidata dal sindaco Sergio Caci in sinergia con la società Mastarna ha ottenuto dalla regione Lazio ben 1.150.000 euro nell'ambito dei fondi POR, FES, ER, Lazio 2007 e 2013 previsti per i comuni che hanno partecipato al bando per i progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ed artistico in aree di grande pregio. Sono entusiasta, dichiara il primo cittadino, di aver raggiunto questo straordinario risultato che porterà nuova linfa al Parco archeologico di Vulci. La sinergia tra il Comune Mastarna e la regione Lazio nella persona dell'assessore alla cultura Fabiana Santini è stata veramente unica. Solo così, grazie al coinvolgimento e allo stretto rapporto con le istituzioni, il Comune e il Parco di Vulci, risorse economico-culturale fondamentale per il territorio potranno tornare a ricoprire quel ruolo di primaria importanza che meritano. Si è svolta presso la sede della Fondazione Carici per la presentazione del Tolfa Arte 2012, ottava edizione del Festival Internazionale dell'Arte di Strada che si terrà a Tolfa dal 3 al 5 agosto. Presente oltre al Presidente della Fondazione, Vincenzo Cacciaglia, il Sindaco di Tolfa Landi, l'assessore alla cultura e all'ambiente di Tolfa, Cristiano Dionisi e i rappresentanti della comunità giovanile di Tolfa, organizzatori della manifestazione. Ma sentiamo i dettagli nelle interviste realizzate per noi da Luca Grossi. Sindaco Landi, come aspetta un primo cittadino una manifestazione come Tolfa Arte? Una manifestazione come Tolfa Arte è un'attesa che dura un anno. Il giorno dopo della fine dell'ultima edizione si comincia a attendere Tolfa Arte perché è veramente un evento straordinario, un evento magnifico perché riesce a mettere in campo tutte quelle che sono le opportunità intellettive, artistiche, di esposizione, logistiche di un paese. Mettiamo al centro, scusate il gioco di parole, il nostro centro storico, ma lo mettiamo al centro di situazioni che sono veramente di grandissimo livello e di grandissimo spessore. Quindi valorizziamo il nostro centro storico ma diamo l'opportunità alle migliaia di visitatori che arrivano a Tolfa di poter godere di spettacoli a go go, di iniziative continue e soprattutto di poter vivere due o tre giorni di grande spensieratezza ma all'insegna della cultura, dell'arte, della pittura, di tutto quello che fa parte poi della parte positiva del nostro vivere. Quindi è chiaro che è un'attesa fantastica, certo qualche preoccupazione organizzativa c'è, però quello che prevale è proprio una grande attesa di sensazioni straordinarie, di emozioni e soprattutto una grande voglia di entrare prima possibile in quello che è un po' l'evento dell'anno. Quindi grande attesa, grande aspettativa e soprattutto voglia di immergerci nel centro storico per godere di questa grande manifestazione. Presidente Cacciaglia, ancora una volta la fondazione scende a difesa della cultura? Sì, particolarmente scendiamo a difesa della cultura, come dice lei, nella zona di Tolfa che è una zona a noi molto cara insieme anche a Dallumiere perché notiamo che fanno dei progetti molto validi, progetti da dove si evince una grossa appartenenza al territorio e che li porta quindi a far conoscere sempre di più il territorio e a creare anche degli indotti importanti per quello che riguarda la qualità della vita, per quello che riguarda anche il discorso economico che oggi non è trascurabile. Quindi siamo pienamente soddisfatti di questo tipo di manifestazione che abbiamo approvato con il progetto di Tolfarte. Non è il primo anno che lo approviamo, abbiamo visto che è una manifestazione molto bella e molto seguita e auguriamo ai comuni di nostra competenza di andare sempre avanti su questa strada ricordando l'importanza dell'appartenenza al proprio territorio e di fare sempre di più perché anche nelle nuove generazioni questa appartenenza abbia sempre più sopravvento. Proseguono i servizi di controllo del territorio al fine di dare più incisivo impulso all'attività di prevenzione sul litorale di Tarquinia e Montalto. Gli agenti del commissariato di Tarquinia in questo periodo hanno portato a termine una serie di operazioni. In particolare nei giorni scorsi il personale della squadra volante del commissariato transitando a piazzale delle Nereidi a Lido hanno ritrovato un anziano affetto dal morbo di Parkinson che si era allontanato dalla zona dopo aver abbandonato la propria autovettura in strada. Gli operatori del commissariato sono anche intervenuti in un residence per sedare una lite tra rumeni. Ma ora diamo spazio a un piccolo break di pubblicità a seguire la nostra consueta pagina dello sport. Grazie a tutti.